Nel cuore di Palermo, nella vecchia e affascinante area commerciale dei Lattarini, da oltre mezzo secolo, la ditta Sirchia è una realtà consolidata nel commercio al dettaglio e all'ingrosso nel settore della moda. I nostri punti di forza sono l'assortimento sempre aggiornato e il giusto rapporto tra marchio, qualità e prezzo. Dalle vestibilità small all'over, dallo stile di tendenza ai capi classici, tutto in una vasta gamma di articoli di abbigliamento, intimo e accessori uomo-donna, bambino e neonato, selezionato da un team attento e qualificato. Grazie a tutti! Nuovi arrivi giornalieri per proporre sempre il meglio. Leader sul mercato perché disponiamo di tutte le categorie merceologiche, il tessile uomo, donna e bambino da 0 a 16 anni. E poi ancora t-shirt, abiti, jeans, pantaloni, giacche, camice, intimo uomo-donna e accessori. Per i vostri momenti felici, Sirchia Abbigliamento veste tutta la famiglia con l'eleganza dei nostri esclusivi abiti da cerimonia griffati. Sirchia Abbigliamento è anche outlet. Vesti bene e spendi poco. Ma non è finita qui. Da noi trovi tutti i capi all'ultima moda nel nostro reparto per taglie forti, toppe e camicette, jeans e vestiti. Abbiamo insomma tutto quello che cerchi. Dagli abiti per l'ufficio, ai look casual per i weekend, a qualcosa di speciale per gli eventi importanti. Cosa aspetti? Sirchia Abbigliamento. Veste tutti. Sirchia Abbigliamento lo trovi a Palermo, in piazza Sant'Anna 27, via Lattarini 3, via Roma 139 e via Roma 158.